Un paio di occhiali da sole, un paio di occhiali da vista, auricolari bluetooth e una fotocamera capace di registrare foto e video con una qualità sufficiente da non invogliare a tirare fuori lo smartphone. Questo è tutto ciò che i nuovi occhiali Smart, Ray-Ban e Meta puntano ad essere, ma non solo. Dopo più di due mesi con loro ed averli testati nei contesti più disparati, dalla motoslita ai piedi del cervino al cercare di spazzolare la mia rascibile gatta, sono pronto a condividere con voi la mia esperienza insieme ai pregi e ai difetti di questo prodotto unico e per chi, secondo me, i nuovi Ray-Ban e Meta Smart Glass sono pensati. Quindi prendiamo un bel respiro e partiamo, perché ci sarà molto da dire. Partiamo quindi dall'inizio. Perché li ho acquistati e perché ve ne sto parlando. Quando ho scoperto dell'uscita della seconda generazione di Smart Glass da parte di Ray-Ban ho pensato, memore del passati, Ray-Ban Stories e Google Glass all'ennesimo tentativo di rendere smart un paio di occhiali che finiscono poi per ricevere più recensioni che vendite. Tuttavia, dopo aver visto la recensione di Due Verge, ammetto di essere rimasto sorpreso. Non solo questa generazione mostrava specifiche tecniche decisamente interessanti e le potenzialità per essere un nuovo inedito strumento per la content creation, ma anche aveva tutte le carte in regola per non essere il solito prodotto di nicchia per appassionati di tecnologia, ma bensì di poter fare breccia nel pubblico più generalista con un prezzo competitivo e caratteristiche uniche nel suo genere. Ho quindi deciso di acquistarli e testarli principalmente come stimolo a raccontare con più semplicità e quindi con più frequenza i backstage della mia azienda e del mio lavoro, che spesso lascio in ombra un po' per pigrizia e un po' perché in diverse circostanze interrompere quello che si sta facendo per riprendere con uno smartphone può non essere la cosa più opportuna e professionale da fare. Per semplicità ho suddiviso il video in capitoli così che possiate saltare direttamente alle parti che più vi interessano. Iniziamo quindi dalla confezione. All'interno della scatola troviamo la custodia con al suo interno ovviamente gli occhiali, un pannetto in microfibra per la pulizia e guide rapide per l'uso. Se siete interessati ad approfondire ulteriormente il contenuto della confezione e il setup iniziale degli occhiali trovate il link al mio video unboxing qui in alto, sempre che sia in grado di aggiungerlo da qualche parte. La custodia degli occhiali in pieno stile Ray-Ban ma rivisitata in chiave moderna. Troviamo infatti una porta USB-C per la ricarica sul fondo, un led per indicarne lo stato della batteria, intorno al bottone per la chiusura ed un piccolo pulsante sul retro per attivare quest'ultima. Confrontandola con una classica custodia Ray-Ban notiamo che ha un volume sicuramente maggiore ma niente di eccessivo se consideriamo che oltre a pulsanti, porte e led include anche una batteria in grado di fornire fino a ben 32 ore di ricarica degli occhiali. Esteticamente è quindi molto piacevole e ben costruita. L'ho tenuta spesso in tasca anche con chiavi e altri oggetti e a distanza di due mesi non presenta alcun tipo di graffio. Qualità costruttiva direi promossa. Come accennavo la custodia oltre a proteggere gli occhiali quando non indossati li ricarica tramite dei pin posizionati sul nasello della stessa. È possibile ricaricare completamente dallo 0 al 100% di batteria gli occhiali in circa 45 minuti nella custodia di ricarica mentre per il 50% sono sufficienti una ventina di minuti decisamente non male considerando anche che raramente andremo a scaricare completamente gli occhiali soprattutto se acquistati con le sole lenti da sole. Nella mia esperienza d'uso non mi è mai capitato di dover ricaricare la custodia più di una volta a settimana. Per la ricarica completa di quest'ultima comunque occorrono circa 3 ore e mezzo tramite la porta USB-C. Ma parliamo dei veri protagonisti di questa recensione gli smart glasses. I nuovi occhiali sono disponibili in due diverse colorazioni e due modelli in pieno stile classico Ray-Ban. Wayfarer, la mia scelta, e Deadliner. Gli occhiali hanno sicuramente lo stile per cui Ray-Ban è famosa e invece di riporre un look futuristico o cyberpunk richiamano invece un design classico riuscendo a far mimetizzare al meglio tutti quei componenti strani a un comune paio di occhiali che li rendono invece smart. Partendo dai controlli troviamo sull'astina a destra il pulsante di scatto e un touchpad integrato per l'attivazione dei comandi vocali. La gestione del volume risponde alle chiamate e comandare la musica. All'interno dell'astina a sinistra troviamo invece in prossimità della cerniera lo switch per accendere e spegnere gli occhiali. Sempre sulle astine troviamo ben quattro speaker due per lato posizionati in prossimità delle orecchie e ben cinque microfoni sono distribuiti per tutta la montatura in modo da catturare al meglio la nostra voce e sopprimere i suoni ambientali. Nella mascherina frontale sono posizionati in modo simmetrico la fotocamera e il led luminoso che segnala agli altri qualora una registrazione sia in corso. È presente un secondo led luminoso ben nascosto nel lato interno della mascherina che ci consente di vedere a colpo d'occhio lo stato degli occhiali e se ci sono meno nuove notifiche. Ray-Ban e Meta hanno fatto un lavoro eccellente nel ridurre al minimo l'impatto di questi componenti sull'estetica degli occhiali. Il peso non è eccessivo e preservano perfettamente lo stile di un normale occhiale da sole Ray-Ban. Gli occhiali sono certificati IPX4 in grado di resistere a spruzzi d'acqua e sudore. Li ho provati più volte anche sotto una fitta neve o una leggera pioggia senza riscontrare problemi. Una caratteristica quasi necessaria considerato il tipo di prodotto. Sempre della qualità costruttiva troviamo però quello che è forse il più grande difetto di questi occhiali, la comodità. Le astine sembrano infatti composte da due plastiche giunte insieme. Il problema nasce dalla qualità di queste giunture che va a creare un profilo piuttosto tagliente verso l'estremità delle astine stesse, proprio laddove l'occhiale va a appoggiarsi dietro le orecchie. Non sono mai riuscito a indossare gli occhiali per più di tre ore consecutive senza provare dolore per quel bordo affilato che preme contro la testa. Dopo un po' non si vede l'ora di toglierli e indossare un normale, comodo paio di occhiali. Questo è forse il tallone di Achille di questo prodotto che in quanto occhiale, anche da vista, dovrebbe essere pensato per poterlo indossare tutto il giorno, ma che diventa purtroppo quasi insopportabile dopo alcune ore. Una svista che mi sorprende molto, in particolare da parte di un'azienda come Ray-Ban con decenni di esperienza nella produzione di questa tipologia di prodotto. Il mio consiglio è quello di andare a provarli con mano in negozio e verificare in prima persona se, magari con delle piccole revisioni nel processo di produzione, i nuovi modelli non presentano più questo problema. App e controlli. Come avviene quasi per la totalità dei wearable, per il setup iniziale è necessario l'uso di una companion app sul proprio smartphone. L'app in questo caso si chiama MetaView ed è disponibile sia per Android che per iOS. Oltre che per il setup iniziale, non avendo uno schermo, l'uso dell'app è necessario per vedere le foto e i video registrati ed accedere alle impostazioni e preferenze di occhiali smart. MetaSmartView è rapida e ben fatta. È suddivisa in tre sezioni principali dove la prima, l'home page, è semplicemente un elenco di video tutorial, utile forse la prima volta che si utilizzano gli occhiali ma dopo qualche giorno li utilizzano non è sicuramente l'home page che vorrei ogni volta che apro l'app. Nella seconda sezione troviamo invece la galleria con foto e video registrati tramite gli occhiali. La sincronizzazione dei contenuti è abbastanza rapida, viene tramite wifi. Una volta aperta l'app e connessa agli occhiali, questi vengono scaricati sullo smartphone. Una volta scaricati appunto sullo smartphone, foto e video vengono elaborati in locale per migliorarne resa, stabilizzazione e distorsione causata dalla lente oltre al grande angolare. È possibile impostare l'importazione automatico dei contenuti multimodiali quando gli occhiali sono accesi e con le stine chiuse oppure quando sono accesi e in carica all'interno della custodia. Mi è capitato di riscontrare un avviso di impossibilità di importare i contenuti quando gli occhiali avevano un basso livello di carica e sono stati esposti a temperature prossime allo zero per vario tempo, invitandomi quindi a ricaricarli per poter importare i contenuti. Sempre tramite l'app è poi possibile andare a personalizzare la nostra esperienza con gli occhiali modificando la durata di registrazione dei video, da un minimo di 15 secondi a un massimo di 60. Il comportamento del pulsante di acquisizione, se scattare una foto premendo una volta oppure tenere premuto per un video o viceversa, modificare le preferenze sui comandi vocali come lingua e voce, aggiornamenti software, rumorizzate led di notifica e così via. Nelle impostazioni è inoltre possibile scegliere se mettere in pausa le funzioni quando gli occhiali non sono indossati. Non sono ben sicuro del metodo utilizzato per rilevare quando indossiamo o meno gli occhiali ma per qualche motivo è capitato più volte che non potessi utilizzare la funzionalità smart nonostante indossassi effettivamente gli occhiali. A seguito di un ripristino alle impostazioni di fabbrica il problema è sembrato risolto per qualche settimana per poi tornare a presentarsi nuovamente. Al momento ho deciso di tenere questa impostazione già attivata ma credo che sia un problema noto anche a meta stessa in quanto presente anche nelle FAQ disponibili sul sito. Speriamo in un aggiornamento software per risolverlo. Gli occhiali sono dotati di una connettività wifi 6 principalmente per il trasferimento di file ed aggiornamenti da e verso lo smartphone che di un bluetooth 5.2 per chiamate, musica, comandi vocali eccetera. Non ho notato comportamenti anomali della batteria dello smartphone quando gli occhiali sono connessi sintomo di una buona gestione della connettività. Al di fuori dell'app è possibile interagire con gli smart glasses in diversi modi. Il primo è attraverso il pulsante di scatto sulla stina che ci consente di scattare foto e registrare video. Oppure attraverso il touchpad possiamo regolare il volume, accettare e rifiutare chiamate, riprodurre o stoppare la musica. Con una pressione prolungata possiamo invece attivare i comandi vocali tramite i quali potremmo richiedere di scattare una foto oppure registrare un video, chiamare un contatto, riprodurre una canzone o chiedere l'orario e il livello della batteria. I comandi vocali sono disponibili in diverse lingue, tra cui l'italiano, ma sono purtroppo limitati nelle funzionalità per lingue diverse dall'inglese. Infatti il modello di intelligenza artificiale denominato Meta AI con grandissima fantasia è attualmente disponibile in versione beta solo negli Stati Uniti. Un peccato in quanto da alcuni hands-on, presente online, sembra possa aprire interessanti possibilità. Nonostante questi, i comandi vocali funzionano bene, anche in condizioni con abbastanza rumore e in diversi casi sono riusciti a identificare il corretto contatto che volevo chiamare, meglio di quanto non faccia Google Assistant. Sarà interessante provare con mano le AI di Meta quando arriverà in Italia ed approfondire se il modello di intelligenza artificiale funzionerà anche in modalità offline senza dover comunicare con i server di Meta. Le funzionalità di Meta AI dovrebbero inoltre espandersi come annunciato da Mark Zuckerberg stesso e testato in anteprima da Marques Brownlee e includere anche la possibilità di chiedere alle AI di dirci cosa si trova di fronte a noi utilizzando la fotocamera, un po' come succede con ChatGPT4 fornendo in input un'immagine. Qualità foto e video. A proposito di immagini, gli occhiali sono dotati di una memoria interna da 32 GB capace di memorizzare circa un centinaio di video da 30 secondi oppure più di 500 foto. Una memoria più che adatta per la fotocamera da 12 megapixel a disposizione. Il sensore della camera è orientato in verticale e monta una lente ultra wide. L'ampiezza del campo nei miei test è del tutto simile a quella di uno smartphone utilizzando la camera ultra grande angolare o 0.5x che derti voglia. Parliamo quindi di una focale assimilabile all'incirca ad un 12 mm. Le foto scattate, considerando la grandezza del sensore, sono di qualità soddisfacente e paragonabile ad uno smartphone di media gamma di qualche anno fa. In condizioni di buona luminosità la resa è sicuramente valida, mentre la qualità dell'immagine inizia a degradarsi in condizioni di forte contrasto o con scarsa luminosità. Tuttavia grazie agli algoritmi di fotografia computazionale implementati da Meta, anche dopo il tramonto il sensore riesce comunque a catturare una quantità di luce davvero notevole, considerate le sue dimensioni estremamente ridotte. La difficoltà maggiore sta probabilmente nell'inquadrare correttamente la scena ed evitare la distorsione prospettica, essendo la fotocamera montata lateralmente e non al centro del nostro viso. Scordatevi quindi di utilizzare gli occhiali per scattare composizioni geometriche, simmetrie o altri elementi architetturali. La discrezione con la quale è possibile scattare foto con questi occhiali fa sì che i soggetti più adatti ad essere fotografati siano probabilmente persone ed animali domestici che spesso possono sentirsi in soggezione con uno smartphone puntato in faccia. La qualità video invece soddisfa, ma non sempre. Nella maggior parte dei contesti i video registrati sono ben stabilizzati, definiti e con una resa di colori piacevole, perfettamente idonei all'uso per cui sono stati pensati Instagram Stories, Reels e TikTok. Non è raro tuttavia che in determinate circostanze, specialmente alla guida di un veicolo, l'immagine vada a deteriorarsi parecchio, restituendo un risultato quasi inutilizzabile per via di alcuni artefatti nelle aree dell'immagine in cui sono presenti il maggior numero di dettagli. Ho riscontrato questo comportamento anomalo principalmente andando in bicicletta. Potrebbe essere dovuto alla tipologia di vibrazione ad alta frequenza prodotta dall'imperfezione del terreno o dalla scarsa ammortizzazione della bicicletta stessa. Un vero peccato visto che la possibilità di riprendere senza mani è veramente utile in molti contesti d'uso. Lato video i problemi dell'inquadratura vanno invece a semplificarsi. Personalmente ho imparato a utilizzare i margini della mondatura per avere un'idea del campo visivo inquadrato dagli occhiali e raramente tenendo all'uomente non sono riuscito a inquadrare correttamente ciò che volevo riprendere. Seppur paragonabile a una 0.5x di uno smartphone l'inquadratura non riesce però a competere con un action cam come ad esempio gopro in termini di ampezza di campo restituendo una visione della scena un po' troppo parziale specialmente in contesti nei quali vorremmo mostrare anche ad esempio le nostre braccia come quando andiamo in bici. Il formato benché limitato al verticale non è un 9.16 vero e proprio ma più squadrato partiamo infatti da una risoluzione maggiore del full hd ma non costante. Infatti la stabilizzazione va a ridurre la dimensione del video e con un massimo da me registrato di 1552 pixel per il lato corto e 2064 pixel per quello lungo. Una via di mezzo tra i due terzi e i quattro quinti. Il frame rate è fisso invece a 30 fps e per la tipologia di contenuti che andremo a registrare non avrei onestamente chiesto di più. In condizioni di scarsa luminosità riuscirete comunque a portarvi a casa un risultato soddisfacente per l'uso social ma c'è da aspettarsi sicuramente un po' di rumore rispetto a quello che avreste magari con la camera ultrawide di un iPhone. Così come il video anche l'audio risulta piacevole grazie ai 5 microfoni anche se risente sicuramente di condizioni di vento forte o andando ad alte velocità. Lo scenario che sembra maggiormente mettere in crisi questi smart glasses un po' come tutte le camere che non sono in grado di registrare i video in HDR è quello di in condizioni di forte contrasto come ho riscontrato ad esempio filmando alla guida dell'auto con all'esterno un prato innevato e illuminato dal sole e l'abitacolo in ombra. L'utilizzo primario quindi un po' come suggerito dall'orientamento del sensore è quello social. L'immediatezza e la semplicità con cui è possibile scattare una foto o registrare un video sono di questi casi incomparabili a qualsiasi altro prodotto insieme a una qualità della maggior parte dei casi soddisfacente li rende uno strumento per la content creation sicuramente almeno da provare. Qualità microfoni e autoparlanti altrettanto soddisfacente è la qualità dell'audio registrato dai microfoni e quello riprodotto dagli speakers. I 5 microfoni riescono a catturare la nostra voce con una qualità superiore praticamente a tutti gli auricolari bluetooth in commercio. La voce risulta ben distinta dai suoni circostanti e l'interlocutore riesce a sentirci in modo nitido. Potete giudicare voi stessi comparando come sentite la mia voce in questo momento rispetto al resto del video che ho registrato invece utilizzando degli ultimi microfoni lavalier wireless Olliland Lark M2. Sempre parlando di audio quello riprodotto attraverso gli occhiali risulta ben corposo con bassi e alti ben equilibrati anche se molto sensibile ai rumori dell'ambiente che ci circonda. Lasciando infatti il canale uditivo libero a differenza di un paio di buds o airpods classiche è facile che il suono vada a degradarsi e disperdersi in ambienti mediamente rumorosi. Gli speaker raggiungono comunque un volume notevole, al massimo volume è infatti possibile sentire la musica anche senza indossarli, magari avendoli appoggiati sul tavolo. L'utilizzo in ambienti con forti rumore come in città o in treno costringe quindi ad aumentare molto il volume dell'audio riprodotto, non certo al massimo per la longevità del nostro udito. E' infatti capitato di avermi coprire le orecchie con le mani a mo' di conchiglia per riuscire a sentire un messaggio vocale o una telefonata. E se vi stesse chiedendo se gli altri possono riuscire a sentire cosa stiamo riproducendo attraverso gli occhiali a determinati livelli di volume e in ambienti abbastanza silenziosi è sicuramente possibile sentire il suono riprodotto anche senza indossare gli occhiali. Dal punto di vista della privacy della nostra conversazione sarebbe quindi preferibile evitare di utilizzarli per chiamate o messaggi vocali dei contenuti privati o sensibili se ci troviamo molto vicini ad altre persone che molto probabilmente potrebbero sentire facilmente la conversazione. Batteria. Un altro aspetto che ho apprezzato è sicuramente la durata della batteria considerata una batteria di soli 154 mAh che per confronto pensiamo i vari altri auricolari wireless ne hanno quasi tre volte tanto. Rayban e Meta hanno fatto un grande lavoro di ottimizzazione per questo dispositivo. Con un uso medio vi troverete a doverle ricaricare meno di una volta al giorno. Per fornirvi un esempio indossandoli dalle 9 e mezza del mattino ed usandoli fino alle 16 circa e registrando nel mentre 11 video ascoltando musica per circa un'ora arriverete al 10 per cento circa di batteria. Parliamo quindi di una batteria di circa 5 ore in inverno per di più con temperature non certo favorevoli. Un ottimo risultato considerando che tramite la custodia sono sufficienti una ventina di minuti per ricaricarne il 50 per cento. Privacy e non farsi notare. Arriviamo quindi a uno dei punti che è stato tra le principali cause di fallimento di questo tipo di prodotto in passato. Pensiamo infatti ai Google Glass o ai precedenti Rayban Stories e che chissà probabilmente tornerà ad essere un centro di grande dibattito qualora wearable di questo tipo diventeranno sempre più comuni. La privacy. Il 99 per cento delle persone non noterà assolutamente nulla di strano nei vostri occhiali a meno che non vi poniate in modo da attirare la loro attenzione. A differenza di Google Glass quindi almeno primo impatto non sembrerà che abbiate un dispositivo super high tech per i più nerd in faccia ma un paio di occhiali alla moda così come tanti altri. Questo è sicuramente un vantaggio per noi quando li indossiamo ma potrebbe farci anche ragionare su quanto sia facile essere filmati senza neanche rendersene conto. Il led bianco che dovrebbe segnalare agli altri che si sta facendo una foto registrando un video si nota veramente poco specialmente in esterna durante giornate molto luminose. Probabilmente una luce rossa sarebbe stata una scelta più saggia da questo punto di vista vista la più facile associazione con una registrazione in corso. E' capitato di sentirmi quasi in colpa a registrare un'interazione con amici conoscenti senza che essi si accorgessero di nulla nonostante non facessi nulla per nascondere il led. Questo sicuramente aiuta a catturare i momenti in completa naturalezza ma potrebbe anche creare delle sofferenze da parte di chi ci sta intorno per la paura di essere costantemente filmati a loro insaputa. Parlando invece della nostra privacy con un'azienda come meta con un trascorso non certo rassicurante in questi termini che è amplice analitica. Devo preoccuparmi ad indossare una fotocamera e dei microfoni connessi direttamente ad un software di meta. Andando a visionare la privacy policy supplementare pubblicata da meta e relativa proprio a metaview e i smart classes troviamo con un certo sollievo l'ommetto quanto segue. Non accederemo ai tuoi contenuti multimediali e non li tratteremo a meno che tu non scelga di attivare il trattamento cloud di metaview sugli occhiali smart o caricarli su altri servizi offerti da meta ossia facebook o instagram o threads eccetera. Mentre per quanto riguarda l'audio registrato per l'utilizzo di meta AI e comandi vocali è possibile disattivare direttamente dall'app l'archiviazione degli stessi e la trascrizione. Lascio in descrizione il link alla policy nel caso in cui vogliate dare una lettura a voi stessi. Il loro prezzo? è possibile acquistare i Ray-Ban Meta Smart Glass sia online sul sito Ray-Ban che nei negozi fisici e rivenditori come ad esempio Salmoraga e Viganò dove io stesso ho acquistato. Il prezzo parte dai 329 euro e varia leggermente in base alla lente da sole o trasparente scelta, non correttiva quindi. Un prezzo che trovo molto aggressivo soprattutto se messo a confronto con il costo medio di un classico paio di occhiali da sole Ray-Ban che però non sono dotati di tutta questa tecnologia e non richiede tale livello di ingegnerizzazione. Qualora come nel mio caso ne aveste bisogno è possibile montare lenti correttive di diverse gradazioni. Personalmente ho optato per lenti correttive fotocromatiche per garantirmi la massima flessibilità di utilizzo in ogni contesto. Essendo sostanzialmente uno strumento credo sia la scelta più sensata per poterne massimizzare l'utilizzo senza essere limitati dalle condizioni di luce. Il prezzo per ogni lente in questo caso si attira intorno ai 180-200 euro. Aggiungendo le lenti correttive a questo prezzo tuttavia il prodotto inizia a essere davvero poco raccomandabile da qualunque considerato che per via del grande difetto di indossabilità accennato prima questi siano sostanzialmente impossibili da utilizzare come occhiale primario qualora voleste farlo. In conclusione ritengo che questi potrebbero essere il primo vero esemplare di successo di questo nuovo ramo dell'evoluzione dei dispositivi wearable. Seppur non perfetti i Ray-Ban Meta Smart Glasses rappresentano lo stato dell'arte nel panorama degli occhiali smart con un prezzo oltretutto competitivo o addirittura inferiore a molti normali occhiali da sole di diversi marchi di moda. Li consiglierei a chi non ha bisogno di lenti correttive o riesce a portarsela a casa con meno di 400 euro. Non credo tuttavia sia un prodotto adatto a chiunque come invece può esserlo uno smartwatch. Persone che amano condividere la loro vita o magari lo fanno per lavoro come content creators potrebbero invece trovare in questi occhiali un nuovo potenziale strumento per raccontare e raccontarsi da un punto di vista unico e diverso. Se invece pensiate di utilizzarli per registrare i vostri giri in bici beh potrebbero non essere prodotto giusto per voi. Spero che abbiate trovato questa recensione interessante. Se avete provato questi occhiali fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima!